il segretario della lega estensione oltre le 22 la ministra bonetti spostarlo alle 23 potrebbe aiutare io chiederei l'estensione dell'orario per uscire la sera e di riaprire alcune attività economiche non sono richieste di salvini ma di tutte le regioni italiane di qualsiasi colore politico mi auguro che già prima del cdm si arrivi a una soluzione di buonsenso così matteo salvini durante un'iniziativa di confedilizia il segretario della lega dice di aver scritto a draghi e ora spero che vengano accolte queste richieste perché votare qualcosa che va contro l'utilità comune il buonsenso non mi va attacca non me l'ha prescritto il dottore di votare per forza qualcosa di cui non sono convinto io sono leale al governo e mi fido assolutamente di mario draghi penso sia la persona giusta al posto giusto noi siamo qui per aiutare qualche resistenza siamo al governo per riequilibrare un certo squilibrio da un punto di vista dell'assistenzialismo del centralismo dello statalismo e i renziani stanno con lui per la ministra elena bonetti che ha parlato a sky tg 24 timeli nello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23 potrebbe aiutare ed essere più funzionale rispetto all'apertura dei ristoranti